Originario di Grosseto, è diplomato al Conservatorio Santa Cecilia di Roma. Ha iniziato a condurre programmi radiofonici in Toscana nelle radio private nel 1976 e, parallelamente ha svolto l'attività di pianista di Pianobar dalla fine degli anni 70 fino a Buona. Parte degli anni 90, nel 1989 ha prodato a Radio Rai e dal 1991 lavora a Rai Isoradio.